buongiorno a tutti ragazzi siamo qui a dublino qui c'è marco ragazzi buongiorno eugenio good morning questo è l'ultimo giorno nostro del viaggio qui a dublino in irlanda eugenio allora oggi è il tuo compleanno cosa ne pensi di questo viaggio come è stato? questo viaggio è stato molto bello l'ultimo è bellissimo fa molto freschetto però soltanto ma tu con lo smanicato non hai sentito freddo? un po' così ma quanti anni hai fatto? 23 e come si dice in inglese? 23 e invece marco tu cosa ne pensi ti è piaciuto questo viaggio qui in irlanda? ragazzi una mia opinione personale su dublino vabbè mi è piaciuta ho apprezzato molto gli immensi spazi verdi e poi anche la semplicità soprattutto la semplicità degli irlandesi che si divertono davvero con molto molto poco nei bar tipici con questi pub dove c'è musica dal vivo le persone che bevono fiumi di Guinness si divertono sono tutti amici persone anziani giovani davvero una bella situazione e invece vedo che sei ben accappottato ma come? dal punto di vista climatico come dici bene tu salvatore dato che mi vedi un po' accappottato fa molto freschetto come vedi spira un vento molto molto forte vabbè alla fine però passeggiando uno poi smaltisce si riscalda questo è il famoso temple bar qui nelle vie di dublino molto famoso molto bello caratteristico anche dentro e che dire adesso stiamo facendo una passeggiatina qui oggi è l'ultimo giorno e che dire e Eugenio allora un voto a questa vacanza in inglese però salvatore il mio voto sapete Eugen in inglese? in inglese poi si dice il numero Eugenio cosa hai imparato in inglese in questi giorni? quando andiamo a mangiare cosa gli dici? allora quando uno chiede il conto qua si dice che neva c'è? hai imparato tante cose che neva c'è? in inglese è un po' così capito? abbiamo convolto anche te in questo viaggetto e allora non ci resta che salutarvi al prossimo viaggetto ragazzi un bacio è stato davvero un becetto un bacio dal freschetto dell'irlandese un freschettino irlandese good bye guys